usb c charger sarà in grado di caricare il mio iphone 15 pro ciao e bentornati dal vostro lorettec da qualche mese ormai ho acquistato il mio nuovo iphone 15 pro sempre più dispositivi hanno la porta usb c in confezione ci viene dato un cavo usb c che cosa fare per poter caricare i nostri dispositivi questa è la soluzione un caricatore con due uscite una porta usb c è una porta usb a per caricare praticamente qualunque cosa ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito prima di cominciare con l'unboxing vi faccio vedere un attimo il prodotto qua abbiamo l'anteprima del nostro caricatore da muro in colorazione nera con due uscite una usb c una usb a brand i new con una potenza di 30 watt usb c charger per ogni unboxing che si rispetti ci muniamo delle nostre forbici e lo andiamo ad unboxare eccolo qui veramente molto molto piccolo e compatto qui abbiamo le due uscite una usb a e una usb c in colorazione nera qui abbiamo il brand i new vi faccio vedere meglio nel dettaglio la porta usb c arriva fino a 30 watt mentre la usb a si ferma soli 16 watt andiamo a collegare cavo usb c colleghiamo alimentiamo utilizzeremo il mio ipad per registrare andiamo a collegare il nostro iphone per la ricarica e come vedete il nostro iphone in carica ottima questa soluzione ci permette di caricare un altro dispositivo con usb a magari le nostre cuffie abbiamo collegato anche le nostre cuffie che sono pronte per la ricarica un'ottima soluzione direi piccolo comodo compatto super veloce con la sua ricarica fino a 30 watt ci permette di caricare molto velocemente i nostri dispositivi sicuramente utilissimo in viaggio ma anche a casa con le sue due porte usb a usb c possiamo praticamente caricare la qualunque cosa adesso però voglio sapere la vostra cosa ne pensate di questo caricabatterie economico fatemelo sapere qui sotto nei commenti vi lascio comunque il link in descrizione ad amazon così potete dare un'occhiata a questo punto non mi resta fare altro che salutarvi dal caricabatterie new e loro tec era tutto noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao